Basta. Allora, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge e conversione del decreto legge 28 settembre 2018, numero 109. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 270, votanti 269, maggioranza 109, favorevoli 167, contrari 49, astenuti 53. Il senato approva, approva. Allora, sull'ordine, sull'ordine, per favore, per favore, per favore, sull'ordine, sull'ordine dei lavori. Non capisco perché, però, se fate così, sospendo la seduta. Ministro, io da questo banco non riesco a vedere l'atteggiamento che lei ha, perché c'è un banco alto che mi impedisce di verificare il suo comportamento. Mi risulta che lei avrebbe gesticolato in maniera non troppo commendevole per un ministro. Io devo necessariamente riprendere alcuni atteggiamenti che non sono commendevoli e non possono essere riprodotti in questa aula. Quindi inviterei tutti ad avere un atteggiamento corretto per il rispetto delle istituzioni. E sia stata fatta una vergognosa, vergognosa manifestazione di inciviltà da parte del ministro Toninelli, che ha alzato il pugno, ha alzato il pugno durante la votazione e si è comportato come quest'aula non merita di vedersi comportare. Ministro Toninelli, non venga mai più in quest'aula ad alzare i pugni. Noi non glielo permetteremo. Io non riesco a vedere.